Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo unboxing. Quest'oggi abbiamo un pacco che ci arriva direttamente dall'ufficio stampa di Honor. Infatti, ci hanno mandato il loro prodotto entry level. Stiamo parlando ovviamente del... Vediamo se avete capito. Eccolo qui. Honor... Olè che volo, bello! Honor XX. No vabbè, sto scherzando, si chiama Honor 6C. Eccolo qui, ve lo apro insieme. Ah, scusate eh, perché a questa camera non l'ho fatto vedere. Guardate che carina questa scatolina, molto compatta, azzurra come sempre. Eccolo qui, il loro smartphone entry level. Molto comparito, io pensavo fosse più grande, invece devo dire che si tiene ben in mano ed è abbastanza, abbastanza. È bello compattino. Adesso lo andiamo ad accendere insieme per, diciamo, darvi un po' le prime impressioni su questo dispositivo. Nel frattempo vediamo cosa c'è all'interno della confezione e troviamo il classico spillino per l'estrazione dello slot SIM. Abbiamo poi il cavo USB, micro USB e l'alimentatore da parete, compresa europea ovviamente. Quindi adesso aspettiamo che lo smartphone si accenda. Ah, nel frattempo che configuro lo smartphone, riepiloghiamo un po' quelle che sono le specifiche tecniche di questo device. Infatti l'Honor 6C è mosso da uno Snapdragon 435. A bordo troviamo anche ben 3 GB di memoria RAM e 32, se non erro, GB di memoria interna. Per quanto riguarda invece le fotocamere, sulla parte frontale troviamo un sensore da 5 megapixel con apertura f2.2, mentre posteriormente troviamo un sensore da ben 13 megapixel sempre con apertura f2.2. Sotto la scocca invece è presente una batteria da 3020 mAh che dovrebbe garantire comunque una buona autonomia vista comunque un processore poco energivo, lo quale lo Snapdragon 435 e un software comunque abbastanza leggero, quello di Huawei e Honor lo conosciamo già benissimo, l'Emotion UI. In questo caso troviamo l'Emotion UI 4.1, lo faccio vedere, 4.1, basato su Android 6.0 Marshmallow. Quindi dicevo, un'ottima autonomia perché appunto il processore è poco energivo, un software che non è molto pesante, ma soprattutto possiede un display frontale, ovviamente display è solo frontale, a meno che non abbiamo un doppio display e-ink, però non è questo il caso, sto andando fuori tema. Dicevo, troviamo un display da 5 pollici con risoluzione Full HD. Andiamo a vedere un secondo la fotocamera perché sono curioso di vedere come scatta questo Honor 6C. Facciamo una prova anche con il nostro Connor. Beh, devo dire comunque ragazzi che le foto non sono male, ovviamente approfondiremo questo lato all'interno della nostra recensione. Beh, cosa dirvi ragazzi, quali sono le mie prime impressioni in questo unboxing? è che è un telefono entry level, molto curato sotto l'aspetto del design e della costruzione. È comunque fluido e reattivo, almeno questa ragazzi è la mia prima impressione al momento dell'apertura del pacco, quindi ovviamente la recensione arriverà prossimamente una volta che l'avremo testato a dovere. Vi ricordo inoltre che potrete acquistare il device su Vmall a 229€ se non sbaglio. E niente ragazzi, per questo unboxing e prime impressioni è tutto. Un saluto da Leonardo con Honor 6C per GizChina.it